Comprendere le esigenze e i trend di mercato e rispondere con profitto alle sfide economiche del sistema commercio. Con questo intento, 20 giovani nisseni stanno seguendo dallo scorso 26 giugno il corso gratuito per il profilo di responsabile punto ventita organizzato da Confcommercio assieme a un'agenzia di lavoro e a un ente di formazione. 9 moduli e 100 ore di corso sino al 21 luglio per sviluppare le competenze per pianificare strategie di marketing e comunicazione e a crescere i servizi al cliente e fidelizzarlo, valutare le azioni economiche per essere attrattivi sul mercato. Un corso che Confcommercio, da sempre attenta alle dinamiche economiche e sociali, ha voluto promuovere per rispondere ai forti cambiamenti in atto nel mondo del commercio. Stiamo cercando di formare 20 potenziali responsabili di punto vendita, stiamo cercando anche di formare 20 potenziali imprenditori che con il supporto di uno staff di docenti che vengono proprio dal settore, stanno cercando di dare appunto queste basi per far sì che questi ragazzi domani possano affacciarsi al mondo del lavoro con delle basi solide ma soprattutto delle basi pratiche. Quindi stiamo facendo anche delle attività pratiche come delle attività sul visual merchandising, sulle tecniche di vendita, sul budget, quindi la formazione del budget e l'organizzazione in generale del punto vendita. Ci sono dei ragazzi tra questi che stanno seguendo il corso che hanno già un'idea imprenditoriale pronta nel cassetto e pronti a investire in città? Sì, assolutamente. Ci sono tantissimi ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco sia come dipendenti ma sia come datori di lavoro. In molti di questi, soprattutto quelli che hanno l'idea di mettersi in gioco come datori di lavoro, c'è una forma di paura dettata da una mancanza di risorse, una mancanza di fondi, ma anche dal periodo che sta vivendo l'economia in generale, sia in Sena ma anche fuori dalla nostra città. L'idea che noi stiamo, il messaggio che noi cerchiamo di dare a questi ragazzi è appunto quello di fare prima di tutto delle valutazioni accurate e prima di sviluppare qualsiasi forma di investimento.